Si voleva dire solo una cosa, che siamo tutti con te, ti guardiamo H24, tutta la famiglia, tutti i parenti, tutte le persone, gli amici, le fan, tutti, ti sosteniamo sempre, però non sono qui per dirti questo, sono qui per dirti una cosa molto più importante, purtroppo in questo periodo non sai lasciarla che sei entrata qua il 16 settembre, lasciarla piena di vita, esuberante, libera di dimostrare tutto quello che volevi dimostrare, anche la stessa Cesara due o tre volte ti ha detto vorrei di nuovo quella ragazza che è entrata il 16 settembre. Purtroppo sei andata in Spagna, sei tornata, sei un'altra persona, una persona che già è un libro letto, un libro di tanti anni fa e che grazie a Marco Garofalo che ti disse delle cose stupende e ti riportò sulla strada e questo Marco Garofalo da campagna, purtroppo non c'è più, ricordati le sue parole e fanne adesso oro di quelle parole. Ti voglio solo dire una cosa amore mio, il mondo è là fuori, qua è un gioco e tutti stanno giocando, tranne te, tutti giocano, fidati. Grazie a tutti. Grazie a tutti.